Ragazzi vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademyit.com disponibile su questo link e anche in descrizione dove potete parlare con il mio team gratuitamente su whatsapp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Come ti chiami, quanti anni hai, se studi o lavori? Allora mi chiamo Marco, ho 16 anni, studio, faccio ancora le scuole superiori e ovviamente in più studio anche trading. Come valuti il percorso formativo sul forex che abbiamo fatto insieme da 1 a 10? Allora il percorso formativo per me è un 10, sì, è un 10 e l'ode. Come ti stai trovando con il percorso? Cosa pensi? Dicci un po', raccontaci un po' qualcosa. Allora, con il percorso mi sto trovando benissimo, sono soddisfatto anche se ovviamente so che ci vuole sempre impegno, quindi diciamo un impegno quotidiano. Però diciamo che ho ottenuto, cioè sto ottenendo dei buoni risultati e mi sento soddisfatto. Che risultati stai ottenendo a proposito del corso? Allora, non sono proprio cifre diciamo alte, però comunque giornalmente qualche piccola cifra riesco a farle. Vabbè, l'importante non è fare 1000 euro in un giorno, l'importante è anche fare 10, 5, 15, l'importante è che... 10, 25, sì. Io conosco poche persone che fanno queste cifre comunque. Per carità ci sono anche persone che ne fanno 200 al giorno, 1000 al giorno. Però piano piano si inizia per poi andare a scalare in modo esponenziale, no? Va bene, allora, qual è la cosa che più ti è piaciuta nel percorso? Se il supporto, le lezioni perfette, il modo chiaro di spiegare, cosa ti è piaciuto più di tutto? Allora, la cosa che preferisco di più è il supporto continuo, quindi da parte tua diciamo un supporto quotidiano. Cioè per qualsiasi problema io posso scriverti, cioè diciamo non esito a scriverti ecco. E poi soprattutto la cosa che mi piace di più è che sia, cioè è che è un percorso in continuo sviluppo, ecco. Cioè non siamo lì fermi, diciamo questo. Esatto. Poi tra l'altro ti dico che tra due settimane, una settimana e mezza usciranno nuove lezioni che avrai gratuitamente tu come tutti gli altri. Quindi apro e chiudo parentesi. Quindi consiglieresti questo percorso formativo a qualcuno per avere anche un'entrata in più? Sì, se qualcuno è interessato diciamo al mondo del trading, io consiglio fortemente appunto questo percorso, ecco. Quindi per te il trading essere, diciamo dopo averti spiegato tutto quanto, hai capito che comunque capire il trading è facile, non è niente difficile, forse perché io riesco a rendervelo molto facile da masticare. Certo, certo. I tuoi videopercorsi sono diciamo fatti benissimo, quindi anche diciamo i concetti più complicati vengono spiegati in maniera semplice. Perfetto, perfetto. Allora ti faccio l'ultima domanda così abbiamo finito. Quindi possiamo dire che aver incontrato Anthony Rossi ti ha cambiato la vita? Allora sì, Anthony Rossi mantiene le promesse e mi ha cambiato la vita. Perfetto Marco, perfetto. Ah bene, io sono contento, ovviamente come ti ho sempre detto impegnati perché le cose non si costruiscono in un giorno ma ci vuole al tempo. Anch'io sono a dieci anni ormai che ci sbatta a testa sopra e guarda ora dove sono arrivato comunque. Accademia, tutte queste persone che seguo, un conto da 80.000 euro su FTM.O. Quindi le cose piano piano arrivano. Ok, ti devi solo impegnare come ho detto anche a tutti gli altri perché il concetto vale per tutti, non solo per te o per altri ma vale per tutti.